Frank D.V.S. è il vincitore della settima puntata di Boogie Pooper Contest, complimenti! Grazie, grazie tanto! Com'è andata la serata? Molto bene, mi sono divertito molto! Hai cantato due canzoni di Elvis, come nasce questa passione per Elvis? Perché io sono cresciuto in Canada ed era il mio tempo, Elvis, Dean Martin, Frank Sinatra, ce l'ho nel DNA! E' vero, nel DNA tal punto che ha convinto il pubblico del Caffè il Ponte di Casteggio e si è giudicato la vittoria. La prossima volta ce li canti Elvis in semifinale oppure cambi? Canterò anche un po' di Bill Hades e Frank Sinatra! Oh, bene bene, quindi il repertorio sicuramente ancora molto vasto, vero? Sono tutti bellissimi! E' vero, dei classici assolutamente belli! Vorrei dire che dieci anni fa cantavo molto meglio, allora fumavo molto di meno! Adesso fumo di più e la voce è un po' svanita! Ma questo assolutamente non gli ha impedito di vincere la settima puntata! Grazie mille, ci vediamo in semifinale! Grazie a voi, grazie! A presto! Grazie a tutti.